Si sono svolti con successo gli esami per conseguire la certificazione delle competenze della lingua italiana L2 per stranieri livello A1 secondo le normative del quadro comune europeo di riferimento del 31 gennaio 2012. I corsisti stranieri hanno frequentato durante tutto l'anno scolastico il corso di italiano L2 per stranieri oltre che il corso di alfabetizzazione sotto la guida della professoressa Angela Incorvaia. La docente ha programmato l'organizzazione dei percorsi formativi fondati sulla flessibilità didattica ma soprattutto con l'ausilio della conoscenza propria della lingua francese e inglese per una migliore interazione con l'utenza straniera. Tutto ciò ha consentito ai corsisti di affrontare l'esame per la certificazione della lingua italiana sostenendo varie prove da una prova di lettura e comprensione del testo a una prova di ascolto e comprensione del testo passando poi per tre prove di produzione scritta e infine una prova di produzione orale. Otto sono stati i corsisti che hanno superato il corso con esito positivo. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Sergio Coniglio del CTP Recapriata che è stato sempre presente e interessato a realizzare con i suoi docenti un percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.